musica 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 ragazzi e ragazzi rieccoci qua su the kaito files proseguiamo la nostra indagine stiamo cercando in tutti i modi insomma di rintracciare mikiko ah sembra che siamo sempre più vicini però si dai secondo me la troviamo è tanto fumosa ma in qualche modo la troveremo adesso sta bambina non so se sa qualcosa ma 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 mi 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 ma che ho un udito un udito ragazzina allora allora trovo la donna delle poezie e anche la gatta a quanto pare ma devo riscendere aspetta aspetta il primo piano ma eh esatto è inteso come piano terra vabbè ok ok quindi qui vicino qui vicino scusa ah non è che magari potevo aspetta un attimo è venuto in mente perché noi stiamo seguendo ovviamente la storia ma non è che non è scritto ma è opzionale magari il fatto di cercare la la gatta la gatta dai entro entro ciao ok giusto per curiosità e poi magari però orecchio magari non c'è però c'è lei la cerca qui ma sa la gatta da un altro edificio c'è poco da cercare no qui qua vibrato no sento il miau cioè non sento nessun miau no ah non credo no no magari basta seguire la missione e noi troviamo anche il gatto va bene eeeh ok dicevamo eeeh vediamo 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 in secolo in secolo in secolo eeeh io entro io entro io entro eeeh non potete entrare qui mi spiace dove devo andare qui? no qui? qui? no forse qui? no 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 gli ascensori non vanno magari giù aspetta aspetta ah eccola eccola l'ho trovata eh voglia pulire qua signora ecco la signora ecco la signora della pulizia lavora qui da molto tempo magari ha visto Michiko ecco oh ecco 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 eh ok ecco 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 eh c'è solo un problema Andiamo a comprare il tornetto Non so E' lì Non ci si arriva Ah quindi la soluzione La soluzione è qua Aspetta La soluzione è qui Non c'è un No Nessun distributore Prova a parlare con loro Lancio te E la signora cosa dice? No ma no È totalmente distratta Pare che la signora abbia una fissa per quei gatti Sì una fissa estrema So qualcosa che si muove Ma Ma sto guardando in giro Sto guardando in giro Ma qui Non mi sembra ci sia nulla Signora mi dia la scopa Lancio la scopa Eh eh Se non mi fai andare di là Non mi fai andare di qua Bagni inaccessibili Ah madonna Sì Io Scusa Ah questi ce li ho ancora Aspetta Eeeh Lancio un piatto Ma questo va venduto Questo ok No ma non ho Ah scorciatoie Sì Volendo posso metterlo qui Durante il combattimento Mmm Toh Però Eeeh Se ti riparlo Andiamo Ah un drone Mi ho dimenticato Mi ho dimenticato del drone Che mi ha lasciato Tac In effetti In effetti Sì Eh sì Impostazioni drone A volo Ah non posso Svalentare niente Operazione Modifiche e comande Ecco E' vero E' vero Eh Eh Oh Non me l'ha suggerito lui Ok Ok ora di tornare La donna delle pulizie Signora A posto Soddisfatta Anno Oba Cotto Ii Hai Nandesuka Ore E' Yagami Tantei Gimusio No Kaito Te monda Che Chotto Hito Sagasite Da Con No Giose Da Kire Na Hito Ne Doro Ore No Kaa Chanda Yukue Fumede Sa E' Grazie Neg jedoch As Cotto Di Premio Doro Prț Cotto Tor Non ho visto. Si... Certo, quindi... Un? Hai pensato? Si, quel film. Un film? È stato un anno dopo. Un mese. Un mese. Un mese? un anno fa prima di? Sì, è stato un po' molto caro. Il mio padre è stato un anno fa 2 anni fa. Ma è stata una volta che ci sono un anno dopo? Ah? C'è qualcosa? Mio, il mio padre è stato un uomo? Cosa è stato? Sì, è stato un anno fa prima di? Ah, ma... Cosa? Mi ha dato un mimo che mi ha dato un mimo. Se ti ricordi, mi ha dato un mimo. Cosa? 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 Cosa se cuore? Sano? Che sia il marito Finalmente forse abbiamo una pista Vabbè ma poteva Magari si ricordava come era vestito Che cosa? Tu... 確que il vato di un giro Kaito? Perché ti sono? Non è il mio cuore Cosa? Tu sei che il giro? Cosa? Kaito? Voi sono i giudici I giudici? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Che si sa mai Non sono stati neanche troppo complicati Grazie a tutti 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 E sto sparito Aspetta però che ho Eh ho un po' di punti Si dai amplifichiamo Così quando lo uso faccio male Ok Se per caso vengo afferrato Con lo stile Così con l'incursore possiamo disarmare Va bene Eh vabbè Eh vabbè Ma sparito Ma sparito Forse temono di essere beccati Devo capire dove hanno intenzione di trasferirsi Forse hanno lasciato in giro qualche indizio Magari, chissà, qualcosa col nuovo indirizzo Allora, vediamo Le scatole qui Pare che abbiano organizzato il trasloco in fretta e furia Probabilmente perché ho scoperto le loro merdate Di certo temevano che facessi una soffiata alla polizia Beh, mi spiace per voi, me ne occuperò io Vieno di scatole Un tasto Un tasto da imballaggio Senz'altro per altre scatole Dove hanno lasciato i traslocatori Ah, qui? C'è qualcosa a terra Una specie di biglietto Una serie di numeri Forse un numero di telefono Ok Ok Ok, credo di poter far funzionare questo telefono Proverò a chiamare il numero che ho trovato Numero sul bigliettino Sentiamo se qualcuno lo so Ah, per favore Ah, per favore Sì, è la campanella Telefono Ah, guarda Questo è un numero di telefono, giusto? Beh, me lo segno per sicurezza Ok Mi sembra un po' troppo semplice Cos'è che... Aspetta Ah, era il... Ok Vediamo su altri livelli Odore di pelle Vediamo un po' Cintura addominale Oh, niente male Un bel regalino Tanto sarà un acquisto Fatto con soldi sporchi Va a vedere No Aspetta Ah, non mi fa uscire Ok Eh, riconosco questo odore La mia stessa marca di sigarette Sto fiutando qualcosa Ma non sembra niente di importante Fa niente Noi prendiamo i punti Punti tecnica Qui forse non c'è nient'altro da annusare Sostituo qualcosa A venire da qui dentro Una di quelle chiavi intelligenti Succomo diceva Che iniziano a cinguettare Quando hanno le batterie scariche Oh, c'è dell'altro sulla mensola Di che si tratta? Aspetta Vediamo se c'è altro Sembra di no Una specie di scatola Cosa conterrà? Ah, ok Tecnica, spirito, indomito Lavoro a spacca Imparo a come usarla Va bene Grazie tante Ok Proviamo Proviamo Il nastro Proviamo a chiamare sto numero Allora Ok Numero sulla lavagna Mi sembra un numero famiglia Ed è il Kyushu numero uno star Ce l'ho in rubrica Per cui era da un pezzo Che non mi capitava Di digitarlo manualmente Evidentemente sono clienti anche loro Come biasimarli? I prezzi sono ottimi I noodles non sono niente male Bah, un altro buco Beh, ma c'è che l'immaginavo Allora, o il telefono non c'entra Mi sembra strano O da qualche parte Un po' imboscato Ci sarà il numero vero Da chiamare Magari Qui? Nulla C'è un sacco di roba Ma nulla che mi mandi dei segnali Ha nascosto Ha nascosto di merda il loro passato da Yakuza Yakuza comunque Ma proprio niente Questo ho già visionato Quello ho già visionato No, eh Questo no Possibile Vediamo cosa dice lui Se solo una di queste scatole Avesse l'indirizzo scritto sopra Non mi Ma non mi sembra il caso Se non c'è l'indirizzo Allora che i traslocatori Sappiamo già dove portarle Beh, non vedo nient'altro di utile Lo trovo Ah, il numero dei traslocatori E dove lo trovo? Beh, immaginavo che C'entrasse un numero Però E perdonate Se delle volte sembra che Ma viene da tossire Pesantemente Quindi Mi muto Temporaneamente Quindi Il numero dei traslocatori Ma scusa Ok Ok Io pensavo appunto A un cassetto Invece No Non sono interagibili Non c'è una qualche pubblicità Su qualche carrello No Quindi Nei buchi Nei fogli di proiettivo Ah, questo Eh, ma come facevo a capire Che era speciale Scusa Una scatola da traslocco Potrebbe esserci qualcosa di interessante Ah, guarda Un numero di telefono Per la ditta di traslocchi Che hanno assunto Direi Potrebbe tornarmi utile Meglio segnarselo E allora forse È l'unica cosa da trovare Sì, ok È vero Non Beh, rispetto al resto Il resto sono delle scatole Queste sono Scatole Da Creare Ok, lo so bene Visto che ho traslocato pure io Però Boh Di primo acchitto Non mi sembrava così speciale Comunque Vediamo Ok Ok Mi daranno qualche informazione Ok 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 Mi sono sempre Ho chiesto È il giudizio di Bato È il giudizio di Bato È il giudizio di Bato Come hai fatto? Ah In realtà Non mi sapevo il giudizio di rinforzamento Non mi sapevo Ma Non mi sapevo Non mi sapevo Il giudizio di rinforzamento Non mi sapevo Ah È un giudizio di rinforzamento Non mi sapevo 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 Ehm Sennriou doori Non mi sapevo Ehm Bantirat Non mi sapevo Non mi sapevo Non mi sapevo Bene Ha funzionato da grande Facciamo visita alla nuova Tana Sulla Senriou Avenue Ok Sì ma che io sapevo Non so se però è valido Appunto Anche nelle città Ma avevo letto O avevo visto Un qualche documentario Quello sul Giappone Dove diceva Che i Giapponesi Non hanno l'indirizzo Come noi Vanno un po' Distretti Un po' Un po' Strani Non mi aspettavo Ehm Ehm Vieni qua Ecco Quindi secondo me Adesso La dicitura C'è il testo Che ci è apparso A noi Del numero Civico Magari è apparso Tipo a noi Però in Giapponesi In realtà Non gliel'ha detto Non so Che sapevo Sta cosa Che Però magari appunto Nelle città Non vale Eh Non so Magari è fuori Fuori città Aspetta Ehm Così Ah qui Quell'odore C'è qualcosa qua Vicino Eh Un altro Collezione Sul serio E qui ci sono Fiondati Eh ma qui Aspetta Sì Mi ricordo Il nascondiglio Del clan Chiorei L'avranno affittato Tutto arredato L'ideale Per sembrare Civili In regola Oddio Non mi ricordo Forse era del primo Judgment Potrei usare L'approccio Classico Ma se le cose Degenerassero Metterai in pericolo Giù Meglio affidarsi Allo stile Di tacche Ed entrare Di nascosto Insomma Siamo Un armadio Però Furtività Fasi di furtività Il tuo obiettivo Raggiunge la destinazione Senza farti scoprire Se un nemico Dovesse individuarti Sopra la sua testa Comparirà una barra Attenzione Se rimanerai Sul campo visivo La barra Attenzione Si riempirà Quando avrai Attenzione piena Il nemico Sarà più allertato Se ti darà la caccia Se ti farai Se ti farai Prendere Dovai premere Il comando corretto Rischierai Di fallire La missione Inoltre Se ti catturerà Un agente Di polizia Fallirai La missione Immediatamente Trova un riparo Per non restare Sospetti Muoviti verso Una copertura Per nasconderti Automaticamente Mentre sei in copertura Puoi eseguire Svegliate azioni Per tirarti fuori Dai guai Come tirare Le monetine O delle palle Di fumo Puoi abbandonare La copertura Solo quando È sicuro Farlo Sposta il cursore Sul soggetto Che vuoi osservare Premi triangolo Quest'azione Potrebbe fornire Gli indizi Una listazione Da 4 soldi Mentre ti nascondi Dietro una copertura Punta il cursore Verso 3 Premi R2 Così facendo Lancerai una moneta In quella direzione Oltre Ad alleggerire Il tuo possibile Ma ne abbiamo Talmente tanti Di soldi I nemici Verranno Distratti Dalla moneta Nella possibilità Di spostarti Vediamo Vediamo Quindi qui In copertura Cos'è Con triangolo Ok Sembra che giù Si trovi più in alto Quell'idiota È proprio in mezzo Ah ma ti dà Ok Lancia moneta Oh Oh So che si trovi in uno Dei piani Di sopra Non ho scelta Devo controllare Ogni angolo Magari con l'udito C'è qualcuno Dall'altra parte Però la porta È bloccata E con il naso Scopri cosa succede Nelle stanze Ma Ma Qua O posso anche salire Ah no No vedi Io non posso salire Vedi C'è la Ah c'è la barriera C'è la barriera Quindi devo Ok Sembra che non esce nessuno La porta è aperta E andiamo di qua Ah non mi fa uscire Pacco Impossibile Eh ma ho già esaminato Con la vista Non lo so Ah di No di qui Sembra Non esce nessuno La porta è aperta Ah ok Bisognava solo C'è qualcuno In quella stanza chiusa Chissà se posso far sì Che apra la porta Ma non possiamo fare Tipo un giro Non so Da fuori Ah qua c'è qualcosa Bracciale Ah a proposito Non è niente Fasciatura Ah qui Difesa più 5 Dice la durata Dell'agonia Del 30% Ma magari Devo mettere Bracciale Attacco più 3% E allora mettiamolo Ma l'agonia Non so cosa sia Mettiamolo Ok Ok non si va Vediamo di là Acqua degli dei Madonna Cos'è Poteri mistici Dice che berla Curi ogni malattia Il che sembra Piuttosto l'osco Vabbè Mi hai ci fa recuperare Tutta la vita Allora scusate Qui No di qua Usa Potrei provare a bussare E poi a tirarlo fuori Bussa E ti sarà dato Un pugno Bussa Una porta chiusa Chiusa chiave Mentre il nemico Si trova dall'altra parte Per attirarlo E far si che la sblocchi Per poi abbatterlo Quando sei in modalità Ricerca attiva E hai scoperto Che c'è un nemico Dall'altra parte Premix C'è una porta Per abbatterlo Pizza Ecco Ecco Alla grande Scanto che funzionerà Anche con le altre porte Che silenzio Non c'è nessuno Qua Pasciatura Vabbè saliamo Questo ho capito Per farti vedere Ok Maledizione Un'altra sentinella Senza abbattere Non andrò da nessuna parte Vado qui Ok Ma Ok Adesso Non andrò Atterramento Ecco Meglio Ok Allora Fammi prima Sentire Più su di così Non si va Quindi Sa da queste parti Il corpo è sparito Non sento Niente Magari È da solo Quell'odore Qualcuno Sta fumando E nessuno Parla Però Eh Porta Vediamo La porta è aperta Porta è aperta Questa però non la esamina Neanche così Andiamo di qua Certo che c'è silenzio La porta non è nemmeno bloccata Ah ok Ho visto tutto Prima vado Qua Ah no Si si saliva Ma Oddio però lì c'è Ah Qua è chiuso Ora ci sarà un modo Per Vediamo Chiuso Andiamo di qua Premio un boss Vedere Caffè freddo Ok Più ricco La storia di boss Vabbè Tecniche A 20.000 punti Slocato nuova tecnica Questo Attiva l'XV Quando usi lo stile maciste E hai un livello basso di salute Per aumentare l'esistenza all'atterramento E evitare di morire L'effetto termina Quando recuperi un certo quantitativo di salute Quando la barra X si svuota O quando l'X boost non è più attivo Proprio in punto di morte La barra X si carica gradualmente Quando è a livello basso di salute Questo è interessante Lo prendo Lo prendo Vediamo Prendiamo la schivata Dai Sì Ah ci abbiamo anche Ah sì speciale è vero Sì 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 Beh questo lo prendo E scarica Si sa mai Magari Ah naso primitivo Sì Ah però questo è valido Sì In città Quindi vabbè Lascerai perdere Lascerai perdere Lascerai perdere Provocare No Mi sparmiamo Aspettiamo Aspettiamo Quindi di qua Abus Di qua Ah Tauriner Tauriner Usiamo Ecco Ecco Vedrai Vedrai che qui ci sarà Guarda Questa è aperta Esatto Poi Aperta Ok Zone extra Eh questa mi sembra importante Vediamo Vediamo Eh C'è qualcuno che parla Eh forse Russare Ah vediamo No Ah Qualcuno sta russando Ah a posto Allora prima andiamo Di qua a prendere Questo Ok Sì oggetti Per Ricarica di poco La barra X Un po' di salute Va bene Quindi Anche lì c'è E blocchia Sa se c'è la chiave Qua vicino Ah si Forse qua Ma questo Ma Ma questo Aspetta Eh mi ricorda qualcosa Ma Così su due piedi Non posso No Non me lo fa esaminare Dai Mi ricorda qualcosa Comunque Ah beh io Quella lì Quella porta lì Mi sembra importante Io busso di qua Ah no è aperta questa Ah porca vacca Vai Stendiamolo Dai Perfetto È quello che avevi voluto fare Subito Ok Eh perché ci sono le lattine Vedi Ah vabbè Piatto d'oro Vabbè Fammi recuperare Un po' di salute Sì E anche Questo Ok Ah busso No di qua Sì busso di qua Ecco Sono più stupidi Ah una chiave Se conosco bene le chiavi La piccoletta Mi saluti Da qualche parte Ok Piatto Quindi la soluzione Era andare qua fuori Obviamente Aspetta Prima ho preso una chiave Forse di questa porta Allora Faccio la tua porta Ah madonna Non pensavo di salire così tanto Aspetta Allora Questo lo stendo Questo io lo stendo Ok La destinazione è quella Vediamo se per caso C'è Eh sì Qualcosa Va bene Andiamo Non pensavo di salire così tanto Non pensavo di salire così tanto Sì, perchè va? Sì, che cosa vuoi? Perciò che a te i conti? Beh... Perciò che ci sono un'ottima cosa. Alla prima di un attento di un guest speciale. Su un'ottima guest? Chi si ha parlato di Kaito in una persona che ha parlato prima. A presto! Grazie a tutti 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 Ho messo questo ma allora no è inutile mettere Le scorciatoie Rimuovi Apro e mi curo Ok ok No pensavo che non si poteva aprire Questa è inutile Vabbè a parte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti